segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te nordio ormai grandi sostenitori nordio sono sono calenda e renzi con costa e continuano a fare provvedimenti per dargli una mano io credo che nordio sia un galantuomo chi è nordio nordio è un magistrato così tutti quelli che dicono ce l'abbiamo con i magistrati nordio un magistrato che ha fatto il procuratore capo a venezia è un liberale diciamo di lungo corso che un uomo peraltro di straordinaria cultura ed è un uomo che ha sempre espresso delle idee per queste idee la meloni lo ha candidato la candidato la meloni non calenda non renzi non costa la meloni ha vinto il suo collegio è diventato parlamentare la meloni l'ha proposto come ministro della giustizia oggi quello che sta accadendo è che chi non vuole riformare la giustizia attacca nordio anche lì un grande alibi per non affrontare i problemi veri della giustizia che sono problemi oggi sta per insediarsi o si è appena insediato il nuovo csm noi sappiamo ricordando ciò che è accaduto intorno a luca palamara che la magistratura italiana deve cambiare senta queste cose nordio le vuole nordio è l'unico che le può cambiare davvero perché talmente forte di suo che il problema non è per me ecco però è forte di suo però sembra un po una mosca bianca alla fine in questo governo di destra centro anche le carrienne avete detto in fondo sta venendo fuori una un'anima giustizialista anche dentro fratelli d'italia legge ordine salvini ha fatto un passo indietro cioè mi sembra che il vero sostenitore di nord questo sia forza italia e tra l'altro nordio detto parecchie volte anche qui da me lo disse che lui o fa quello che vuole fare o va via non ha nessun bisogno di fare la carriera politica il ministro nordio nordio è un signore straordinario è una persona libera potrebbe mollare è un liberale ma è soprattutto prima di essere una persona libera io non credo che mollerà anche perché lui non lo fa per un puntiglio personale lo fa perché ha una visione del paese questa visione del paese una visione bella dove la il garantismo è scritto in costituzione dopodiché se lui deciderà di mollare il problema non sarà per nordio ma sarà per la meloni cioè se tu sei l'allenatore della squadra dove il miglior giocatore a un certo punto chiede il cambio io non credo che avverrà ma se dovesse avvenire sarebbe un problema per la meloni non per nordio grazie 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 grazie